Benvenuti a questa edizione di Tris telegiornale sul canale 172. In apertura tiene banco ancora la questione relativa al sequestro delle due opere presenti alla mostra d'arte ciclopica per il quale si è aperto una sorta di dibattito politico in seno al comune di Siracusa. Vediamo il servizio. Anche il gruppo misto al Consiglio Comunale ha chiesto all'amministrazione comunale l'arrevoca dell'affidamento dell'ex convento di San Francesco d'Assisi alla luce degli accadimenti dei giorni scorsi sulla vicenda del sequestro di due opere presenti alla mostra d'arte ciclopica e operazione come sapete del nucleo tutela patrimonio culturale dei carabinieri si inserisce sul solco di un dibattito politico interno al comune che ha visto nei giorni scorsi parte del gruppo consigliare misto e altri contribuire all'approvazione di una mozione che chiede all'amministrazione l'arrevoca in autotutela della delibera di giunta di affidamento dell'ex convento di San Francesco. Il comune l'aveva affidata a un soggetto privato che organizza la mostra. Esprimo, dice il consigliere Pippo Impallomeni, tutta la mia preoccupazione per il danno d'immagine che può ricadere sulla città d'arte e cultura come Siracusa dal rischio di esporre in palazzi istituzionali opere d'arte di dubbi e attribuzione. Ovviamente si è accertato. Per questa ragione, considerando l'importanza dei nomi presenti nelle mostre organizzate da Musei Sicilia, ci si augura, dice ancora Impallomeni, che abbia corso una verifica anche più ampia da parte del nucleo dei carabinieri che sovrintende alla tutela del patrimonio culturale su tutti i siti e anche ci si chiede se la dimissione del sessore Granata non potesse essere una tutela dell'intera amministrazione Siracusa. E ancora sulla questione cosiddetta ciclopica, l'assessore comunale Fabio Granata sostiene di non volersi dimettere, di essere invece la giunta pronta a chiedere un risarcimento qualora dovesse confermarsi l'ipotesi di falso per le due sculture. L'assessore Fabio Granata non ci pensa nemmeno di mettersi come richiesto da più parti, anzi ritiene che il comune sia parte l'ESA qualora si dovesse confermare l'ipotesi di sculture false nella mostra ciclopica. Con tutta l'aggiunta attendiamo lunedì la presentazione della documentazione ufficiale che noi peraltro abbiamo in copia originale in cui si attesti inequivocabilmente che le due sculture di Giacometti sono autorizzate a liberamente circolare ed essere esposte dal Ministero per i beni e le attività culturali. C'è una stima molto alta delle due opere e questa produzione di documenti spero sciolga un equivo che da qualcuno è stato indotto ma è su cui in ogni caso il comune è parte l'ESA, cioè il comune o è parte l'ESA nei confronti di chi ha sollevato questa suggestione del tutto infondata o sarà parte l'ESA nei confronti di Sicilia Musei che ci ha costruito una mossa in cui su 130 pezzi i due forze più importanti non sono autentici. Io propendo per la prima tesi. E a chi ovviamente sta chiedendo le sue dimissioni cosa risponde? Non c'è un nesso logico né politico lontanamente ipotizzabile tra la vicenda, ammesso che sia fondata, perché ammesso che sia fondata io ho un curatore che si chiama Sanfo che per vent'anni ha diretto la galleria di arte contemporanea della Fabri e poi della Mondadori e che è il garante legale della mostra. Sono sufficientemente colto, qualcuno dice che sono poco colto, questo non interessa, però certamente non sono un critico d'arte. Quindi è chiaro che chiunque organizzi una mossa si deve affidare a professionisti. Sanfo è un grande professionista, io credo che tutto sarà chiarito presto. Bene hanno fatti i carabinieri avendo avuto una sollecitazione a intervenire, ma spero che tutto possa essere chiarito e in ogni caso se non dovesse essere chiarito saremmo i primi a costiturci parte civile contro chi ci ha propinato un falso. Cambiamo argomento, la chiusura del Castello Eurio, la centro di un'iniziativa del Movimento Oltre, è chiesto al Presidente della Regione Siciliana di nominare il Direttore del Parco Archeologico della Neapolis. Fra dieci giorni scade il termine ultimo per la nomina del Direttore del Parco Archeologico della Neapolis, da poco istituito, una nomina che diventa fondamentale non soltanto per gli introvidi che possono arrivare, ma anche per la riapertura di siti archeologici, oggi chiusi. Come giunta comunale abbiamo fatto anche di più, abbiamo approvato un atto di indirizzo che chiede alla Regione delle more dell'istituzione del Parco Archeologico di trasferirci la competenza per aprire il castello, per poterlo rendere valorizzabile, perché questo è importantissimo per l'economia del Borgo di Belvedere e per tutta la città. E' un grave disdoro per la città che si arrivi al Castello Eurio, lo voglio ricordare, la più antica e importante fortificazione greca esistente al mondo e la si trovi chiusa. Inoltre c'è un ragionamento che io voglio circoscrivere ai numeri. Il dato del Parco Archeologico della città, da quando non è approvato, cioè dall'approvazione della legge e poi dalla Valle dei Templi, ha comportato per la città un lucro cessante di 75 milioni di euro, che sono venuti meno a che cosa? Ai servizi, alla pulizia, alle navette che collegano Belvedere col Parco della Neapolis, a tutto questo. Allora basta che domani, è un basta metaforico e politico, il Presidente Musumeci nomini un buon direttore del Parco Archeologico che ormai è istituito, per cui il Castello Eurio si riapre in una settimana, perché con i soldi che provengono dalla Neapolis si potranno utilizzare direttamente per ripulire il castello e renderlo nuovamente valorizzabile. Io ringrazio il mio amico Faraone, che è stato un po' l'indiana Jones della situazione, ma l'avevamo rilanciato tante volte. Purtroppo il risultato del solito articolo, peraltro puntuale, del Corriere della Sera, che è sottolineare un fatto esistente e che però non è certo importante per la reputazione della nostra città. Fra 10 giorni scade appunto il termine ultimo per nominare il nuovo direttore. Cosa farete adesso? In nato attendiamo un nome all'altezza di questo parco, perché questo sarà il parco più importante, certamente, dell'area mediterranea. È un parco che va dal nostro parco archeologico, compresa appunto il Castello Eurio, compresa il Borgantico di Cassibile, compresa il Tempio di Giove, il Ginnasio Romano, le Mura Dionigiane e poi si allarga fino al Tellaro, fino a Leloro, fino a Palazzolo, fino a Pandalica. C'è un'area enorme che può diventare, diventerà senz'altro con una buona conduzione, il primo parco della Sicilia. Questo significherà che potrà arrivare ad incassare nel giro di qualche anno almeno 10 milioni di euro l'anno che saranno spesi sul territorio. Quindi un beneficio effettivo, perché poi la ricaduta in cosa consisterà? Nelle aperture notturne, negli eventi, negli allestimenti, nella pulizia, nell'illuminazione. Cioè in un'economia che si scatena attorno alla valorizzazione del bene culturale. Parliamo di sanità adesso e di carenza. Carenza d'organico assistenziale infermeristico all'ASP di Siracusa. Intervengono i sindacati. L'organizzazione sindacale Cobas Sanità ritiene dover evidenziare la carenza d'organico assistenziale infermeristico dell'ASP di Siracusa. Dopo frequenti richiami da parte del Cobas, l'organizzazione sindacale accende i riflettori su una realtà contraddittoria a loro odire. Le assunzioni, dice Pietro Valenti, realizzate da qualche anno, non hanno creato condizioni tale da colmare il fabbisogno assistenziale d'equip, specie presso le unità operative. Anzi, ha costretto al costante demanzionamento professionale infermeristico con la grave consueta carenza di operatori di supporto. Più volte il sindacato ha insistito sull'importanza della questione che coinvolge tutti i reparti, individuando in particolare con priorità le terapie intensive, con precaria assistenza deficitaria diurna e notturna. La carenza assistenziale favorisce l'insorgenza di patologie da stress da lavoro correlato e quelle articolari, lavoro quindi usurante. In queste condizioni operative prevara l'assenza di un'assistenza al cittadino che subisce passivamente. Il COBAS ha quindi chiesto alla Direzione Generale la visualizzazione della collocazione del personale nei presidi ospedalieri, imbolitoriali e di territorio per verificare l'idoneo fabbisogno di dotazione organica e soprattutto, secondo le reali, necessità assistenziali. Avanziamo dubbi, dice Valenti, e perplessità sull'assegnazione di personale senza avvisi pubblici interni, condizionati queste da favoritismi, perseguendo le legittime procedure per sistemare i cosiddetti imboscati. Un'ulteriore nota di protesta giunge da parte della CISL, Funzione Pubblica di Siracusa, e quindi è stata inviata la protesta all'amministrazione dell'ASP di Siracusa sulla questione relativa alla carenza di personale infermieristico nei reparti dei nosocomi degli ospedali di tutta la provincia. Questo per sollecitare l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'erogazione dei servizi al cittadino e, in modo particolare, al malato. Il timore sempre più reale, segnalato dal segretario generale della Funzione Pubblica delle Passanisi e dal responsabile del Dipartimento Sanità Pubblica, Mauro Bonarigo, riguarda la possibilità di un ulteriore abbassamento dei livelli di assistenza che, in ragione della causa, mettono paradossalmente a repentaglio la stessa salute di quel personale, la cui missione è l'assistenza al malato. Rieccoci in studio per la seconda parte del nostro telegiornale, che vi andiamo con la cronaca. Una donna libica praticava un aborto con metodi artigianali, è stata ricoverata e fuggita dall'ospedale, ma poi è stata rintracciata e salvata dalla polizia. Il servizio. Avrebbe tentato un aborto clandestino e dovuta così ricorrere alle cure dei sanitari, avendo visto però il poliziotto di guardia, ha pensato bene di tagliare la corda. L'episodio è venuto a Siracusa, l'agente in servizio al posto di polizia dell'ospedale Umberto I è intervenuto nel reparto di ginecologia Gruppo Parto perché aveva una donna di 43 anni di nazionalità libica, secondo i medici in servizio aveva tentato di praticare un aborto ingerendo degli infusi di erbe, trovandosi comunque oltre la quattordicesima settimana di gestazione. Mentre il poliziotto cercava di ricostruire l'intera vicenda chiedendo ulteriori notizie ai medici del reparto, la donna, eludendo la sorveglianza dei sanitari, si è allontanata arbitrariamente, intuendo con facilità il grave pericolo di vita in cui versava la signora e conseguentemente il feto che portava in grembo. Il poliziotto ha chiesto l'intervento delle volanti che poco dopo l'hanno rintracciata nelle vie limitrofe della struttura ospedaliera, in evidente stato di malessere, e l'hanno accompagnata in ospedale dove è stata ricoverata e sottoposta alle cure de' mediche. La donna è stata quindi curata e monitorata, le sue condizioni e quelle del feto sono stabili e comunque buone. Slittamento delle elezioni per il governo delle ex province e delle città metropolitane per il vicepresidente dell'Anci Sicilia, Paolo Amenta. I rischi restano ancora tutti aperti se non si apre un serio tavolo di confronto con gli amministratori locali. Lo slittamento adatta da destinarsi delle elezioni di secondo livello per dare un governo alle ex province siciliane continua a destare polemiche. Per il vicepresidente di Anci Sicilia, Paolo Amenta, la preoccupazione è che dopo anni di totale indifferenza per assolvere i compiti che legge l'assegna, la decisione di far slittare le elezioni senza un progetto di risanamento finanziario stabile e di rilancio, oltre a suonare come una fuga dal problema, potrebbe rappresentare un ulteriore aggravio delle già precarie condizioni di salute di questi enti. Occorre pertanto, continua Amenta, un ulteriore sforzo rispetto ai piccoli passi fatti e comunque sono positivi per prevedere 540 milioni per la viabilità secondaria, 212 milioni sulla parte corrente, con l'impegno da parte del Governo nazionale ad approvare modifiche normative finanziarie a garantire l'equilibrio corrente dei liberi consorzi e delle città metropolitane. Bisogna fare in modo che ex province e città metropolitane possano al più presto provare bilanci e avviare una responsabile programmazione degli investimenti, se con lo slittamento delle elezioni si è scongiurato nell'immediato di scaricare sugli incolpevoli amministratori locali chiamati dall'attuale normativa a governare questi enti di aria vasta, responsabilità che sono di altri, il non avere indudato date e percorse certe di un confronto con loro è un altro dato negativo, sempre che da Palermo non giunga un controordine e si torni a votare a giugno. Parliamo adesso del monumento ai caduti a Siracusa, il comitato attivisti siracusani inaugura simbolicamente la nuova rampa per i disabili. Con la realizzazione della rampa di accesso qui al monumento ai caduti, questo sito possiamo dire che è senza barriere architettoniche, questa mattina il comitato attivisti siracusani ha deciso di fare un'inaugurazione simbolica, perché? Abbiamo organizzato oggi questo incontro tra persone normodotate e persone con disabilità appunto per dare la possibilità a chi è normodotato di vivere quotidianamente le disabilità che hanno le persone in carrozzina e anche non vedenti. La realizzazione di quest'opera pubblica è stata effettuata dall'amministrazione mediante l'impiego del fondo di riserva del sindaco e quindi ringraziamo l'amministrazione per questo tentativo di rendere sempre più accessibile la nostra città. La realizzazione di un'opera pubblica, per quanto riguarda l'accessibilità delle persone diversamente abili, sicuramente rappresenta un passo in avanti per quello che riguarda l'accessibilità e la fruibilità dei beni. È anche vero che nel rispettare le norme di legge per la realizzazione delle opere non necessariamente si ottiene quel risultato sperato dai diversamente abili, soprattutto dai affetti da disabilità motorie perché come abbiamo potuto riscontrare, anzi come hanno riscontrato i nostri amici in carrozzina, sebbene la realizzazione rispecchi dei requisiti accettati per norma di legge non rispecchia le esigenze di chi la deve affrontare una rompa del genere. La nostra soluzione sarebbe stata quella intanto di incontrare oggi l'amministrazione che è presente solamente grazie alla partecipazione di alcuni consiglieri che comunque non fanno parte neanche della maggioranza, ma l'incontro voleva essere utilizzato per dare la possibilità ai nostri concittadini che sono affetti da disabilità di spiegare quali sono le difficoltà, di spiegare quali sono le possibili soluzioni perché sono loro ad affrontare tutti i giorni di difficoltà e quindi sono loro a poter dare una migliore soluzione, una più efficiente soluzione, quindi il dialogo, la partecipazione, la democrazia partecipata, la consulenza inclusiva. Noi pensiamo che siano il miglior strumento per rendere la nostra città maggiormente fruibile, maggiormente accessibile, che poi appunto rendere una città accessibile per i disabili significa rendere una città maggiormente accessibile per tutti. Lo sport ci porta adesso a parlare del Gran Galà del Galoppo e Palio dei Pali, tra Purosangue, Asini e Quarter Horse. Vediamo. Domani nuovo evento all'Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa, in scena il Gran Galà del Galoppo che schiera sette corse, tra cui l'atteso Gran Premio Teatro Greco Trofeo Golf UK, uno spettacolo garantito dalle gare con gli Asini e novità assoluta le competizioni con i cavalli più veloci sul quarto di Miglio, i Quarter Horse. In pista i quartieri di Floridia contro quelli di Canicattini Bagni, che si sfideranno per il Palio dei Pali. La promozione dell'Ippica passa attraverso la rievocazione delle tradizioni popolari delle due cittadine, una Canicattini Bagni per il Palio di San Michele, al cui interno si sviluppa Cursac e Scecchi, l'altra Floridia, che attende il ripristino del Palio dell'Ascensione Floridiana con le corse dei cavalli, lungo corso Vittorio Emanuele. I nomi dei quartieri, con i colori storici dei loro standardi sulle prontate giubbe, saranno protagonisti sulle piste dell'Ippodromo. Stessi quartieri in competizione con i Quarter Horse dell'SD, spettacoli equestri di Maria Purità, che per la prima volta si lanceranno sulle piste per decretare tutte le loro caratteristiche, agilità, velocità e destrezza. Il Galoppo offre un premio Teatro Greco Trofeo Golf UK, legato al nome della Casa d'Aste, pronta ad offrire in giornata trofei e bonus ai vincitori. Coach Miss Softly è il soggetto da battere per l'HP sui 1600 metri di pista grande, non ne perde una dal 15 dicembre e assume dunque il ruolo di favorito. Proverà a farsi i vali d'avversaria, la compagna di scuderia Franziska Pink, tornata a Siracusa dopo una parentesi romana e ancora i positivi Signor Arancio e Principe Azzurro. L'incognita la poniamo su Illegal Ballet, che approda Siracusa dopo la carriera milanese. Poi le sorprese, tra cui annoveriamo Quicksilver e Leon Dorado. Nella Maiden, abbinata al premio Golf UK, invece, i cavalli di due anni si affrontano sui 1200 metri di pista piccola, pochi riferimenti, molte le incognite. I soggetti più affidabili sono Cicaloca, tra le femmine, e Gail Wards, tra i maschi. La condizionata, legata al premio palioascensione, invece, è totalmente nelle mani di Dorkel. È tutto per questa edizione di Triste Telegiornale. Grazie per averci seguito, arrivederci e risentirci al prossimo appuntamento. Grazie per aver guardato il video.